E' stato un effetto domino drammatico per certi versi folle, quello che ha portato alla morte di Livio Babetto, 44 anni, autotrasportatore di Noale. L'uomo stava raggiungendo il posto di lavoro, la Siad di Quinto, quando la sua Opel Meriva è uscita di strada finendo nel fossato, forse urtata da un'altra auto che si è subito dileguata. Uscito illeso dall'abitacolo, Babetto avrebbe raggiunto il ciglio della Noalese e qui sarebbe stato travolto da una terza auto, una Renault Clio condotta da una ragazza veneziana di 25 anni. L'impatto alle 3 e un quarto del mattino è stato micidiale con l'uomo sbalzato di alcuni metri, inutili tentativi di soccorso da parte degli operatori del SUEM sul posto accanto a vigili del fuoco e agenti della postrada che si sono messi immediatamente sulle tracce della sospetta auto pirata. Nel corso della notte l'individuazione di un trentenne residente a Treviso risultato positivo all'alcol testa e per questo denunciato, sotto shock la 25enne alla guida della Clio, negativa invece alla prova alcolimetrica. Una dinamica complessa con i condizionali quanto mai d'obbligo perché va circoscritta la responsabilità di tutte le persone coinvolte. Si va dall'accusa di omissione di soccorso a carico del trentenne all'omicidio colposo in capo alla ragazza e non solo. Accertamenti saranno effettuati anche sullo stato dei mezzi e sull'illuminazione della zona attorno alla rotatoria di via Marconi e sul rettilineo che porta il distributore Vega, qui al bar lo conoscevano tutti. Solare, socievole, scherzava con tutti, era meraviglioso, io apro le 5 e mezza e tante volte è qua alle 5 e mezza, viene a prendere il caffè, veniva a prendere il caffè oppure al sabato passava qua qui ragazzi, ci veniva a salutare verso quest'ora. Livio Babetto lascia i genitori e una sorella, oltre a una fidanzata Sara, che ha affidato a un posto il suo stato d'animo, sarà il mio angelo custode, mi manchi da morire, vorrei dirti tante cose ma ora non posso più farlo, ti parlerò con il cuore in mano, i familiari intanto hanno autorizzato all'espianto degli organi. Non ci voglio pensare, non ci credo ancora.